Questa è la prima iniziativa in Molise, è stata portata a termine con successo dall'ambito territoriale di Termoli e ne siamo felicissimi ed è un valore sociale immenso. Già il titolo, vi invitiamo a casa nostra a un profilo particolare perché significa che sono loro che includono il resto del mondo. Siamo noi ad essere orgogliosi di essere ospitati a casa loro ed è proprio questo il valore sociale. È proprio questo momento che permette a tutti di avere il loro spazio e questa inclusività vuol dire che il PNRR ha successo. Anche per noi il sociale diventa la priorità assoluta oltre tutto il resto perché vuol dire aumentare il benessere socio-economico, vuol dire sentirsi pari e vuol dire vivere insieme tutte le esperienze.